che definirei sorpresa non tanto perché ha due attaccanti che sono peraltro due che non hanno mai combinato nulla in carriera ad altissimi livelli poi citiamo ma l'unica squadra che ha due giocatori in doppia cifra, cioè trovatemi altre squadre che hanno due giocatori in doppia cifra in assoluto a metà stagione, cioè è una cosa secondo me veramente rara è il miglior attacco della Zvaite e in questo momento Rob, dicevamo, l'allenatore Torsten Lieberknecht che è uno che ha una storia particolare, soprattutto diciamo che ha avuto dei buoni maestri diciamo che è stato vabbè ha avuto una carriera in Bundesliga, ha avuto una carriera su Zvaite ha giocato al Mainz tra il 95 e il 2002 è stato allievo come Jurgen Klopp di Werner Frank ma soprattutto lui ha raccontato Wolfgang Wolfgang Frank è stato per sua somma sfiga è stato il compagno di distanza di Jurgen Klopp ha detto è durato un mese perché mi rincoglioniva da furia di parole nel senso che ha detto a un certo punto non sapeva più cosa fare ho detto vabbè allora cambio perché non ce la faccio più tra l'altro lui poi al di là di questo ha avuto una sua traiettoria da allenatore e ricordiamo che L'Aintracht Braun ci va con una squadra che ha una storia non pesantissima ma è importante è stata campione di Germania è diventata famosa perché è la prima squadra tedesca che ha di Bundesliga che ha posto uno sponsor sulla propria maglia cioè una storia pesante lui l'aveva riportata ovviamente quell'anno poi non fu buono perché ritrocessero praticamente come erano arrivati un po' non come il Grotterfurt però fecero o non fecero assolutamente bene anzi fecero una stagione molto di sotto delle aspettative lui era sembrava essersi perso quest'anno dopo che Mako Sanfang di cui poi parleremo per vicissitudini non tanto buone è partito per andare a Brema l'hanno scelto come allenatore lui è sempre stato un allenatore diciamo classico allenatore da semina io ricordo che all'entracht di Braunschweig è stato dieci anni che dieci anni tolto strike sono una rarità in qualunque paese in particolare in Germania non tanto però dieci anni sono parecchi lui ha costruito poi una cosa che ha avuto comunque delle ripercussioni poi sulla squadra tuttora secondo me nessuno di voi se l'aspettava come hai detto tu se è basata su Fifa e Tiz che sono praticamente due come hai detto tu non certamente due stelle nel livello giovanile sono giovani ma non sono più giovanissime hanno credo 25 sono però non erano nessuno di noi si avrebbe aspettato che uno ne fa 12 e uno ne fa 11 se sono andato a memoria con comunque come hai detto tu su tutte le doppia cifra e diciamo sono entrambi a 12 sono entrambi a 12 ok e 24 gol in due diciamo che è un bel poi secondo me ci sono altri giocatori come per esempio ci sono c'è Isherwood che è uno dei due uno dei centrali tra l'altro qui c'è la più grossa concentrazione di Pfeiffer che vabbè Pfeiffer è un cuore abbastanza comune in Germania in cui bisogna sempre dire chi sono perché c'è l'altro che fa il difensore comunque mi sembra che la squadra sia buona poi abbiamo alcuni buoni routini come Ghasula che ricordiamo famoso perché ha fatto credo il record di ammunizioni in Bundesliga esatto 16 arrivato operato dopo averci provato con l'hamburgo poi hai capito che lì non era funzionava era record di espulsioni o di ammunizioni no di ammunizioni di ammunizioni comunque diciamo che nessuno se l'aspettava e a Esteli a un punto da quelli davanti ma soprattutto a 5 da quelli dietro a più 5 da quelli dietro diciamo che non nessuno se lo sarebbe aspettato ovviamente neanche loro probabilmente secondo me beh ricordiamoci che quando un paio di anni fa l'Eidenheim arrivò a una partita da arrivare in Bundesliga secondo me neanche loro se lo sarebbero aspettati secondo me con il Darmstadt contando che l'Eidenheim ha una storia molto ridotta rispetto all'Armstadt è stato la squadra anche del nostro grande amico Bruno Labbadia da giocatore nel senso è una squadra con una certa storia però secondo me è sorprendente perché c'è ancora possibilità in Zweiter ma in parte come diceva Gianni in Championship le favole non mi piacciono perché i soldi che giano in Championship non giovano neanche in Serie A però nel senso dire delle squadre che hanno dei progetti interessanti come mi sembra quello del Darmstadt bisogna vedere se dura quest'anno e se potrebbe essere che durerà anche l'anno prossimo io peraltro ero stato a Darmstadt in un periodo in cui il Böllenfaltor che è lo stadio in cui gioca il Darmstadt era in piena ricostruzione praticamente c'era lo stadio a metà c'era una tribuna che non esisteva c'era un cantiere dall'altra parte e la cosa molto divertente è che su questo cantiere c'era il settore ospite ovviamente scoperto arrivava lo Jan Regensburg era fine marzo comunque non è che facesse caldo però se stavi sotto al sole un pochino caldo faceva e hanno fatto una coreografia splendida portando gli ombrelli appunto per evidenziare questo fatto che era una tribuna si trova di scoperto e se pioveva erano cazzi ma invece c'era il sole però stavano lì con l'ombrello ed era meraviglioso diciamo che comunque Darmstadt è una squadra che ricordiamo è stata in Bundesliga anche in tempi abbastanza recenti e in particolare la dobbiamo citare perché è una delle salvezze più incredibili signore e signori del Darmstadt porta la firma di un signore di un signore perché adesso al Dedalunter Haching però in realtà il suo ruolo principale è sparare bombe quando vai in televisione in particolare a Dazone e ovviamente parliamo di Sandro Wagner che insomma meraviglioso personaggio che appunto fa sembrare moderato Matteus io devo dire questo fa sembrare moderato Matteus perché proprio le dici perché Matteus l'altro giorno tra l'altro aveva detto una roba del tipo ma no io ho contatti con la Puma lei lui sapete che è di che a Holland non va cioè io quando dici una cosa Matteus all'80% penso il contrario poi quel 20% mai ci prende però davvero dici delle robe e Sandrone è ancora pesco è pure ironico è anche ironico esatto esattamente per dire per parlare di un personaggio che è a noi familiari in Italia cioè Quisans che stiamo imparando a conoscere Sandrone Nostro ha detto che Quisans per quelli come lui non c'è spazio al Bayern Monaco ecco cioè proprio non sono stati compagni di squadra però insomma una bella bordatina mi sembra abbastanza abbastanza pesante ciao Sandrone ci manchi tantissimo